Daniele Capelli pronto ad iniziare questa nuova avventura? Oggi finalmente si parte perché io avevo una gran voglia e ho trovato anche i miei compagni comunque molto carichi e oggi è il primo giorno e da domenica saremo in ritiro e via con tanta voglia. Siete pronti alle bacchettate di Quall'Antuono? Sì per quelle dobbiamo essere pronti perché si sa che lui bacchetta spesso però è giusto così perché è stata anche un po' la nostra forza in questi ultimi anni e quindi ecco noi siamo a sua disposizione. Quanta voglia ha Daniele Capelli di andare in ritiro? Beh io tanta perché comunque dopo due anni un po' particolari la voglia di allenarsi col gruppo e giocare è tanta quindi ora facciamo stasettimana qua un po' di preritiro e di riscaldamento e poi da domenica ripeto saremo su Arovetta. Le vacanze sono andate bene? Hai trovato la giusta carica anche se forse non ne avevi bisogno? Sì le vacanze vanno sempre bene, si rilassa, si stacca un po' la spina però ormai sono finite quindi è inutile ripensarci e niente guardiamo avanti e guardiamo questo inizio di stagione. Si sfogliano un po' i giornali, si legge del mercato, calciomercato, questa Serie A è difficile dirlo perché con il mercato aperto sino al 2 di settembre le squadre possono cambiare fisionomia però che Serie A ti sembra visto gli avversari e visto anche quanto è successo l'anno scorso? Sembra molto difficile però rispetto all'anno scorso a parte qualche colpo le squadre non si sono modificate più di tanto quindi bisognerà aspettare sicuramente gli ultimi giorni per vedere i cambiamenti delle squadre però noi come sempre negli ultimi anni abbiamo sempre guardato in casa nostra e anche quest'anno faremo così.